I mestieri, secondo video. Impariamo altri nuovi mestieri. Questi è il dottore, doctor. Questi direi che sia elettricista, electrician. Questa è la parrucchiera, che si dice hairdresser. Poi abbiamo il giudice, the judge. Questi è l'avvocato, forse, sì, lawyer. Questo è il meccanico, mechanic. Proseguiamo. Questo è l'infermiere, nurse. Fotografo, photographer. E questo è l'idraulico, plumber. Bene, vediamo questi nuovi vocaboli. Abbiamo visto il dottore, doctor. Electrician è l'elettricista, hairdresser è la parrucchiera, judge è il giudice, lawyer è l'avvocato, mechanic è il meccanico, Nurse è l'infermiera, photographer è il fotografo, plumber è l'idraulico.